A Spezia abbiamo fatto un'ottima partita per 60 minuti, stavamo contenendo bene lo Spezia, non ci aveva creato pericoli e quindi dobbiamo ripartire da lì. Poi siamo rimasti in 10 contro una squadra che fa un ottimo palleggio e quindi siamo andati un po' in difficoltà, però per 60 minuti abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo cercare di lavorare su quello per cercare di farlo per 90 minuti. Ma questo non lo so, speriamo di risolverlo e speriamo che nelle prossime partite quando ci troveremo e se ci dovessimo trovare in circostanze simili, troveremo il modo di uscirne per portare a caso il risultato positivo che a Spezia non è arrivato purtroppo. Sicuramente è una partita difficile come tutte quelle di Serie B, arriva una squadra che ha ottenuto un grande risultato nell'ultima giornata che ha sicuramente delle ottime individualità e lo sappiamo benissimo, però noi stiamo preparando la nostra partita e cercheremo di arrivare nel miglior modo possibile per ottenere il risultato migliore possibile. Stiamo lavorando bene, analizziamo le partite nel modo giusto e poi cerchiamo di portare il lavoro sul campo e adattarlo poi anche agli avversari. Sicuramente Ivan è un grande portiere che merita di giocare, è andato a giocare e ci siamo fatti un in bocca al lupo e complimenti a vicenda. Con Marche mi trovo bene, lavoriamo bene, c'è sintonia e questo è importante perché è importante la settimana per poter arrivare bene alla partita e lavorare bene, questo sicuramente. Personalmente posso dire che il mio livello personale va un po' di pari passo con la squadra, nel senso che se la squadra riuscirà ad ottenere quello che deve raggiungere partendo dalla prossima giornata che è importantissima, poi a fine anno si trarranno le somme e sarò sicuramente soddisfatto. Il mister ha ragione, la Serie B impone che il primo obiettivo è sempre la salvezza, perché ti ritrovi in difficoltà senza neanche rendertene conto magari ed è importante raggiungere prima quell'obiettivo lì e poi nel caso si potrà vedere cosa si potrà fare. Personalmente non mi era mai successo e devo dire che non è sicuramente bello più che altro per come è avvenuto, più che per il gol di Proveder, nel senso che abbiamo preso l'ultimo secondo della partita e di una partita che stavamo vincendo e quindi sicuramente i giorni successivi sono stati un po' difficili per quanto riguarda il sonno, però adesso quello è passato, l'abbiamo analizzato e adesso dobbiamo guardare avanti. Questo non si dice mai, lo sappiamo io e il preparatore, analizziamo i video, analizziamo tutto per poter creare.